Salve a tutti, io sono TheLongamer e bentornati su TheLongDark. Questa è la volta buona che la signorina mi si ribella. Ho intenzione di tornare alla baita a valle portandomi dietro quanto più cibo possibile. Solo che ancora non ho fatti conti con i lupi e le tempeste di neve. TheLongDark sa sempre come farmi bestemmiare. Buona visione. Ma buongiorno a tutti e ben ritrovati ancora una volta su TheLongDark. È un'altra gelida mattina qua con la signorina che, poverina porco cane, mi ha passato due giorni abbastanza difficili. Ho riportato ognuno dei nostri oggetti al 100%, quindi siamo perfetti. Tutto affilato, tutto pulito, tutto rattoppato. La signorina è in condizioni perfette, ma oggi ho intenzione di traprendere un piano, diciamo un attimino folle. Cercherò di portare quanti più oggetti alla baita da cui siamo partiti. Ok, lo so, è un piano folle perché questo vorrà dire appesantire la signorina oltre i limiti dell'immaginabile. Però è l'unico modo che abbiamo per riuscire a portarci dietro qualcosa senza lasciare indietro troppe cose necessarie. Soprattutto il cibo, come potete vedere, io cercherò di portarmelo via tutto. Ci portiamo via anche la nostra classica bottiglietta d'acqua nel caso ci venisse sete. Sarà difficile, il cibo è la cosa più importante alla fine perché comunque a vestiti siamo messi benissimo. Anzi, pesano anche troppo in tutta sincerità, ma vabbè. Mi porterebbe anche questo burro d'arachidi che dovrebbe riempire un bel po'. Non so quante calorie dia, vediamo. 900 calorie, niente male, niente male. Lascerò qui qualunque cosa in più come la legna. La signorina si stancherà parecchio ovviamente lungo il percorso, questo è inevitabile. E quindi dovremo procurarci le risorse mano a mano che andiamo avanti. Ok, cominciamo questo piano folle. Recuperiamo il nostro sacco a pelo. Per fortuna che almeno è un'ottima mattina. Non so quanto faccia freddo. Fa tanto freddo! Fa veramente un bel po' tanto freddo. La signorina adesso ha 39 kg di peso. Sono veramente un bel po'. Sapete bene che i vestiti che indossa pesano una marea e sono quelli che rallentano di più. Però ci danno la garanzia che quantomeno la signorina non mi muoia di freddo lungo il percorso. Per contro il fatto di averla così carica come un mulo. Vedete quanto a che lentezza sta camminando. Fare in modo che la signorina consumi troppe calorie. Quindi è una situazione un po' difficile. L'ideale sarebbe arrivare con dei vestiti leggerissimi e cercare di fare il tragitto facendo la strada più breve. Ma ancora non sappiamo quale sia. Io cercherò di intraprendere l'altra strada che l'altra volta non abbiamo visto. Se tutto va bene in teoria avremo sì delle corde da utilizzare avanti e indietro. Ma saranno tutte in discesa dato che siamo comunque sul punto più alto di The Long Dark. Quindi si spera che scendendo la signorina non mi consumi troppe energie. Eh sì purtroppo non c'è nessun altro modo per portare giù il cibo. Ci ho pensato, ho riflettuto mentalmente riguardando anche i vecchi video ma... Dovremmo rifarci la strada. Al contrario è... Oh mio Dio speriamo bene. Si rina piano eh. Vediamo se a scendere... No a scendere non mi consuma tantissima energia per fortuna. Quindi ci va anche di culo perché questa... Questa... La salita la stancava tantissimo e io devo farla riposare ogni volta. E adesso più siamo carichi più ci dobbiamo riposare. Più ci riposiamo e più siamo carichi e più cibo consumiamo. Quindi è un rischio considerevole quello che sto facendo. Ok. Non è stato così difficile. Oh aspetta che non me la tiro troppo perché sennò De'Londark me la fa pagare abbastanza in fretta. Però porco cane la fatica. Speriamo di non incontrare lupi perché la rogna maggiore è stata che fino adesso non ho trovato proiettili. Yey le bestemmie De'Londark. Sento già i porchi che mi sta tirando la signorina. Io sta povera ragazza la sto torturando da talmente tanti episodi. Però insomma diciamoci la verità è ancora viva. Io sono morto solo nel lontano primo episodio quando non sapevo cosa dovevo fare. Sono morto di cacarella peraltro. E qua io mi recupero la cordicuina perché sicuramente ci servirà e ci aggiunge ben 5 kg ulteriori di peso. Signorina alla fine di questa scalata lei praticamente ci avrà la circonferenza dei quadricipiti delle gambe di circa un metro. Cioè la signorina è sempre più lenta. Ma no mano che aggiungo peso mi rallenta. Se raccolgo un sasso sarà così lenta che mi va indietro. C'ho un dubbio. La signorina è così carica che se mi sa che se andiamo in discesa e la signorina mi scivola mi causa una valanga. Poco ma sicuro. Poi io la piglio per il culo ma mi sa che la maledetta prima o poi me la farà pagare. Ecco già non posso più correre. Signorina lei mi è già distrutta? No. Però diciamo che è un po' incazzata. La bestemmia mi aggiora purtroppo e se incontreremo... Se incontro un orso è finita. No no letteralmente è finita non ci provo nemmeno. Sto fermo lì anzi lo accolgo a braccia aperte lui mi accoglierà a fauci aperte purtroppo. Perché non posso letteralmente correre. Vedete la barretta rossa in alto a destra? Quando tento di correre mi dice... Eh no ciccio c'hai 45 kg di roba addosso. Che cazzo ti aspettavi dalla vita? Oh ok qua la corda c'è. Il problema non è tanto la corda. E se c'è anche il lupo. 100 euro che appena scendo mi trovo il branco tutto amorevole. Come no? Signorina lei mi scende vero? Ok la signorina scende però non è molto contenta. Piana, piano, piano signorina. Porco cazzo. Speriamo bene. Ok 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 ok. Ah ora che mi ricordo da questa parte l'altra volta avevo visto che c'era un container quelli dell'aereo. Che potrebbe contenere qualche risorsa interessante. Sento passi ma mi sa che sono solamente i conigli. Io prego il dio che siano solo i conigli dell'on dark si magnanimo. Ah eccolo là mi pare che sia quello laggiù. Io mi guardo attorno perché mi aspetto di trovarmi le fauci malefiche che mi assaltano all'improvviso. Eh sì è uno dei contenitori dell'aereo. Perfetto perfetto. Dimmi che la sega me la son portata via. Perfetto ok. Vediamo se troviamo cose che anche queste potremmo tentare di recuperarle magari più avanti. Antibiotici. Oh ok abbiamo trovato droghe. Signorina si fa il festino stasera. Si spari le peggio droghe che tanto nessuno si lamenta o la giudica. Poco ma sicuro. Anzi. Uh. Cibo in scatola. E questo signorina io me lo porto via così non siamo costretti a usare direttamente il cibo militare. Anzi quello militare vorrei tenerlo per le grandi occasioni. Signorina si muove ancora lei. Quanto l'ho caricata? Ok. 48 chili. Pfff. Bazzeccole avanti. L'ho fatto fare di peggio. Peccato che non ci sia un grammo di sole neanche a pagarlo però. Madonna de londark. Ste zone hanno sempre un tempo di merda. E per fortuna che stiamo andando in discesa perché se no. Uh. Questo è il fiumiciatolo. Secondo me se seguiamo il fiumiciatolo potremmo arrivare al lago della zona in cui siamo arrivati nel primo episodio. E quello laggiù è un lupo che noi evitiamo molto volentieri. E di una facilità perdere l'orientamento in stocca... Aspetta questa è una di quelle rocce dove c'è la corda? Ah. Ma non c'è la corda. Cacchio. Però sembra una di quelle... E buongiorno container de cibo. E quello laggiù mi sembra il lago. No. Veramente siamo già arrivati. Oh sarebbe una botta di culo in mane. Eeeh. Vediamo se possiamo mettere la corda. Brava signorina. Perfetto. Ok. Ok. Vada 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 vada. Eeeh. Tada. E ci siamo anche alleggeriti di 5. Che li godi facendo? Cortesemente non mi scivoli sia magnanima. Se mi perde l'equilibrio e scivola di sotto mi incazzo eh. Sono 30 episodi che la torturo. Ce ne saranno almeno altri 30. Ok. Stiamo andando molto molto bene. Oh. Perfetto. Questo in teoria mi ha fatto tagliare un po' la strada. A meno che non fosse l'unico modo per arrivare fin qua. Il problema non è mai scendere. È sempre salire in effetti. Mmm. Vediamo quest'altro container cosa ci offre. E il vincitore è... Oh. Cappelli e giacchette. Perfetto. Questi potrebbero essere molto utili per rimpiazzare la... I vestiti pesanti che ho. Mettendo questi sarò meno protetto dal freddo. Ma mi dovrebbe permettere di andare più veloce e trasportare più cibo. Oh. È qui il paradiso del cracker e delle barrette energetiche. È giù cibo. No no. Questo me lo prendo tutto. Me ne frego altamente. Qua si in rinasi. Secondo me siamo anche abbastanza vicini al lago. Che vuol dire che potremmo essere anche vicini all'orso. Se vi ricordate mentre scalavo l'orso stava andando al lago. Quindi bestemmi in arrivo secondo me. Ehm no. Mi sa che non siamo al lago. Mi sembrava troppo bello per essere vero. Ma vabbè non importa. Vuol dire che la nostra camminata sarà ancora ben più lunga del previsto. Questa è una delle tante imprese stupide che mi metto in mente io. Ma sapete se non faccio una cosa stupida o folle non sono contento. Devo dire che da quando siamo arrivati qui non abbiamo neanche incontrato nessun lupo. Porco cane c'è anche andata di iper super culo. E cominciano i bivi. Grazie Dallon Dark. Che mi offri le scelte. Aspetta. Ma è un motore dell'aereo quello laggiù. Ma quella è una parte dell'aereo? O sono scemo? Aspetta che vado a dare un'occhiata. C'è la signorina che sarà al settimo cielo che la faccio camminare di più. A quanti chili siamo arrivati signorina? Ah 44 è vero perché abbiamo... Ci siamo liberati di 5 chili di corda. Ok ci è andata anche di culo a tutti gli effetti. Però dovremmo essere stra iper super pieni di cibo. Guardate qua. Una marea di cibo. Porco cane. Questo se lo riusciamo a lasciare alla baita potrebbe essere veramente un ottimo punto di partenza. Dalla baita potremmo esplorare il resto delle zone limitrofe. Ok sì è uno dei motori dell'aereo. Minchia ma in quante parti si è stracciato sto aereo? Pensate che noi siamo stati lassù. Porco cane mi viene il panico se ci penso. E questo è... Ah il motore. Beh uno dei motori quantomeno. E buongiorno piccolino di motore lui eh. Porco cane. Ok abbiamo praticamente quasi ritrovato tutte le parti dell'aereo. Oh no. Oh no 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 no. Non mi dire che mi serve un'altra corda ti prego. Bestemmia in arrivo. Sento che la bestemmia mi sta per salire. La risposta è... Bestemmia in arrivo. Porco di quel cane. A poter mettere una corda qui ci semplificavamo un po' la strada. Però forse abbiamo il sentierino di là se ci va di culo. Ah eccola là. Lo vedete quello lassù è la parte dell'aereo da cui noi sbirciavamo per guardare di sotto. Siamo meno distanti del previsto. Signorina altro che corda qua ci convenia inventare il paracadute facevamo prima. Vediamo se di qua si trova... Ok qua potrebbe essere una buona discesa. E finché si scende ve l'ho detto è una passeggiata. E poi io spero di andare in direzione corretta. Anche se di qua mi sembra molto meno difficile della strada che abbiamo intrapeso per... Per arrivare. Non mi dite che come al solito ho scelto la strada più difficile e c'era tipo il sentierino eh. No perché se no mi incazzo. Ed eccola il lupo. Porca di quella porca dell'Hondark. Dimmi che c'è un'altra strada ti prego. E la risposta alla mia domanda è... Ma manco per il cazzo. E... Oh. Oh. No. No. Questo... Oh oh il lupo ha inseguito un coniglio. Il problema è che adesso non lo vedo. No. No. Hondark si magnanimo. Ti prego. Non rompere il cazzo proprio adesso. Non è giornata. In teoria finché è distratto. Eccolo lì. Ah no. Era un tronco. Deficiente. Lo sento. Lo sento. Lo sento ma non lo vedo il problema. Ah. Eccoti là. Ah. Cerco di arrivare da dietro. Zitto zitto. Quattro quattro. DeLondark si magnanimo. Non farmi bestemmiare. In teoria recupera... Si è formato. Perché si è fermato? Buongiorno. Lei non mi nota vero? Io gli sparo. Che faccio? Gli sparo? No. 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 Ok. Ho visto un altro coniglio. E giù di conigli. No. Punta il coniglio. Non rompere il cazzo. Punta il coniglio. Ti avevo detto di puntare il coniglio. Ah. Figlio di puttana di DeLondark. Se no mi mandavi un lupo contro non sei contento. E io mi ciullo anche la carne. Ah. Che cazzo di colpo mi hai fatto pigliare? Uh. Ho notato una cosa. Adesso per recuperare tutta la carne ci ho messo 37 minuti usando il coltello. Se vi ricordate? Io il coltello l'avevo affilato pesantemente la scorsa volta. Il che vuol dire che più il coltello è affilato e meno tempo ci mette la signorina a fare il tutto. Ok. Spero di non aver detto una stronzata ma in teoria forse no. Il che è strano. E tanto siamo riusciti anche a caricarci di altri 4 kg di carne. Signorina. La signorina è veramente tanto contenta. È veramente. Mi domando se riuscirò a intraprendere il viaggio in un'unica giornata senza dover riposare. Nutro di dubbi. E porco. Cane crepacci dovunque. Ah. Dovrò trovare un'altra strada. Che poi questo realmente è il primo episodio di The Long Dark che faccio. Oh. Buongiorno corda. No. C'era la corda a un metro da dove stavo bestemmiando. Ma veramente. Dicevo. È il primo viaggio che faccio su The Long Dark. Camminando e basta. Non è mai successo. Che culo però. La corda. Ma dai. Ma veramente. Grazie. Uh. Porco cane. Noto adesso che è quasi notte. Dovremmo darci una mossa. Oh. Gesù. Madonna. Che. Come cazzo è messa sta corda. Ma vabbè. Lasciamo stare. Dicevo. Dovremmo essere quasi arrivati al lago. Sto camminando da letteralmente tutta la giornata. Sono partito che c'erano 13 ore di luce. Adesso ne mancano 4. Quindi la signorina è in giro da ben 9 ore. Con 70.000 kg di carne. E tanto ci siamo fatti fuori comunque un altro lupo. E abbiamo diminuito i proiettili. E ne restano 2. 4. 6. 6. 7. Più o meno. La signorina. Eh. Non mi resisterà ancora più di tanto. L'ideale sarebbe riuscire a trovare una grotta. E passare la notte. Anche perché. Non ho la più pallida idea di dove mi trovo rispetto al lago. Se nella peggiore dell'ipotesi. Non trovo. Eh. Altre munizioni. E di sto passo la vedo anche dura. Trovarne altre. Peccato. Perché era uno dei motivi principali. Per cui sono venuto qui. Pensavo di usare. Se vi ricordate. L'altra volta abbiamo trovato una pistola. La flare gun. Quella che spara i razzi. In teoria. Se spari a un lupo sulle gengive. Tanto bene. Non gli fa. Quindi magari diventa un'arma. Se li spaventa e basta. Sarebbe una fregatura gigantesca. Però. Se li uccidesse. Magari. Non sarebbe neanche così male. No. E' ufficiale. Non ho la più pallida idea di dove io stia andando. Ah. Peccato che non c'è modo di disegnarsi una mappa. O altro. Magari una bussola. Ah no. La bussola non potrebbe funzionare. Perché c'è stato il casino. Oh. No. Basta lupi. Dove? Oh. Ma che rompicoglioni che sei buono. E due lupi in un giorno. E mi arriva su anche la tormenta di neve. No. La signorina adesso non mi si muove più. Porco. No. C'è anche fame signorina. Veramente. Porti pazienza un crisbio di secondo. Ecco qua. Madonna. C'è la tormenta che neanche mi fa andare avanti. Boia di quel cane. Siamo a meno tre gradi. Però io sta carne di lupo non la mollo. Frega niente. Io me la prendo tutta. Ok. C'è una bruttissima tormenta di neve. Wow. Ok. Ufficialmente non ho la più pallida idea di dove andare adesso. Madonna santa. Oh. Questa non ci voleva. Io ancora. Non so nemmeno quante ore di luce ho. Forse avrò al massimo due ore di luce. Vediamo. Continuiamo ad andare di qua. Io non ho le più pallide della signorina. Praticamente non mi cammina. Perché la tormenta rende tutto così difficile. Oh. Speriamo bene. Speriamo proprio tanto tanto bene. Perché se no dovremmo accendere un fuoco. Che non ho neanche legna. O nella peggiore dell'ipotesi ci prenderemo un'ipotermia della madonna. Crystal Lake. Lago di cristallo. Sono al lago. Oh cazzo. Sono tornato al lago. Ok. Da qualche parte ci dovrebbe essere la baita. Andiamo. Puntiamo un punto a caso. Io punto di là. E incrocio le dita. Incrocio anche il buco del culo. Santo cielo. Ma donna che casino. Eh beh. Si sapeva che prima o poi dell'on dark mi avrebbe dovuto ributtare una di queste orribili tempeste. Quanto freddo fa signorina? Meno 12. In realtà. Scusate. Ci sono. Meno 44 gradi. No. Quasi non riusciamo a muoverci. E' bruttissima questa tempesta. Porco cazzo. Ok. Forse si sta placando. No. Era la speranza a parlare per un secondo. Porca di quella troia. Però che bruttissima tempesta. Mamma mia. Però se siamo al lago vuol dire che dovremmo avere... Ecco. Ok. Se vado a favore di vento è molto più facile muoversi. Quindi cerchiamo di andare a favore di vento. Andare contro vento è una cazzata in mane. E che non riesco a vedere proprio un cazzo. Potrei essere dovunque sul lago ghiacciato. Dannazione. Se solo smettesse per alcuni secondi potrei cercare di capire dove sono rispetto al resto della... Eccolo là. Vedo una di quelle casette sul lago. Perfetto. 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 Ottimo. Ok. Almeno dovrei potermi riparare all'interno. Non mi ci posso chiudere. Vero? Dannazione. Siamo letteralmente penso a uno o due minuti dalla baita. Il problema è che non ho la più pallida idea di dove sia rispetto alla nostra posizione. Oh. Santa casetta sul lago. Vediamo anche un attimino di riscaldarci. Oh. E ci trovo un lupo. Oh. No. Ci trovo anche la legna. Vi giuro ho freddo nella vita vera. Una cosa incredibile. Ok. Qua dentro com'è il tutto. Vediamo le temperature. Ci sono meno 5 gradi. Oh. La signorina è messa malissimo in tutti i fronti. Ma proprio tutti tutti. E ci sono comunque meno 5 gradi anche qua dentro. Porco cazzo. Allora io direi di utilizzare la legna che abbiamo trovato qui. Peccato non poter... Uh. Ho trovato una lenza. Eh. Però non abbiamo altro. Va bene. Ce la dovremo far bastare per fare mezzo fuocarello. Perché se no la signorina qua mi ci muore malo malo. E il fuoco ce l'abbiamo. Oh. Buttiamo dentro quanta... Ah. Abbiamo fuoco solo per un'ora e 26. E va bene. Ce lo faremo bastare. Ok. E così la signorina col cibo caldo mi si dovrebbe riscaldare anche lei stessa. E a questo punto direi anche di fargli mangiare una seconda cosa di maiale e fagioli. Che praticamente la signorina adesso mi alimenta al fuoco a scureggio. È una cosa spettacolare. Dovete vedere. Proprio un'arte millenaria. Tramandata di generazione in generazione. Ecco. Volevo anche evitare di passare la notte qui perché preferirei arrivare alla baita e riscaldare tutta quella carne di lupo. Porco cane. Questa ci complica parecchio le cose. Però sembra che la tempesta non voglia passare. Abbiamo ancora tre ore di luce. Aspetta un attimo. È molto buono. Se lui mi dice che ci sono tre ore di luce vuol dire che sta passando la tempesta. Ok. Gioco ti prego dimmi che sono uno sputo dalla baita. Dov'è la baita? Dov'è la baita? Dov'è quella fottutissima baita? Eccola laggiù. Cioè ero veramente a uno sputo dalla baita. Cioè ho la signorina che mi si muove a un passo all'anno. Cioè è talmente stanca. Sì sta traportando il doppio del peso che potrebbe mai traportare. Oh. Non ci credo. Guardate. Signorina a costo di farla camminare in cinocchio. Lei mi arriva alla baita quanto è vero il dio. Cioè dimmi te guardate dov'era. Io e noi siamo arrivati penso da laggiù credo. E ci siamo pilati la tempesta. Un minuto e mezzo era il tempo che mi serviva per arrivare alla fottutissima baita. Però giurerei che ci abbiamo messo molto di meno ad arrivare qua. Ok? Che non abbiamo dovuto scalare ma abbiamo dovuto scendere. Però direi che mentalmente potrei essere in grado di tornare in cima all'aereo senza troppe bestemmie. Sarà una sfacchinata perché devi scalarti tre corde. Però diciamo che all'andata non ti porti dietro nulla. E ci siamo pilati pure due lupi che ci porta i colpi a una quantità considerevolmente inferiore. Due, quattro, sei proiettili. Porco cazzo dell'Hondark. Ho capito che di sto passo mi toccherà farmi l'arco alle frecce. Signorina ce la può fare avanti. Siamo arrivati e un metro letteralmente non mi svenga qua fuori che sennò la gente a casa mi giudica male dopo. Ecco signorina questo sarebbe il momento in cui dovremmo attivare le scuregge per darci un po' di propulsione. Io la butto là. La porta. La porta di casa non ci credo. Avanti, avanti, un'altra spizzarella e ci siamo. Ok. Oh baita. Sì, ecco Siria, siamo appena rientrati. Appena detto sta diventando buio è meglio trovarsi un riparo. Faccia lei più di così, ok? Ci abbiamo il tetto sfondato. Ma chi se ne frega. Abbiamo legno in abbondanza e adesso abbiamo anche una marea di cibo. Ah, altra cosa che non sapevo di poter fare. Si possono spostare gli oggetti e appoggiarli. Oh, questo non lo sapevo. Aspetta, puoi fare così. Tac, tasto destro. E possiamo appoggiare gli oggetti in giro. Ottimo, ottimo, ottimo. Cioè, mi sento un dipendente del supermercato a dover fare sto lavoro. Ma che tristezza, ormai mi sono impuntato e lo porto a termine. Ok, ci è voluta una marea di tempo, però potete notare che abbiamo una marea di scatolette, una marea di cibo militare e anche una marea di cracker. I cracker sono importanti nella dieta moderna. Ok, questo ci dovrebbe consentire quindi di poter andare su e giù ancora per un po' di volte. È davvero abbastanza materiale, madonna, non mi pare vero. Ma direi che anche per questo episodio è tutto. Qui abbiamo il resto della corda e dovremmo avere anche delle frecce dell'arco, che forse l'ho messe via. Dove diavolo l'ho messe? Eccole qua, quindi è un peccato non averlo con noi. Ma non importa, dai, direi che per oggi abbiamo fatto anche un bel po', quindi io direi che anche per la signorina che poverina è iper stanca, è il caso di andare a dormire. Buonanotte. Bisogna dire che The Lone Dark sta nuovamente mettendocela tutta per farmi fuori la povera signorina, che dopo la faticaccia di questo episodio si merita una bella nottata di riposo. Dopo la quale sono sicuro che mi denuncerà per molesti e abuse, ma, signorina, non le do venimamente torto. Almeno la prima parte delle scorte è al sicuro, ma riuscirò a recuperarne anche altre? Come sempre, vi ringrazio per aver visto questo episodio e spero che vi sia piaciuto e che vi siate divertiti. Se possibile, mettete un mi piace e condividete il video su Facebook per aiutare il canale a crescere. Se siete nuovi, iscrivetevi per non perdervi la prossima puntata. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao!